ciao non parliamo da tanto tempo ragazzi da tanto tempo allora intanto mi scuso ma purtroppo aspetta ve lo faccio vedere perché sennò non ci credete io non sono ancora andato a dormire sono le 6 e 10 del mattino spero che si veda allora siamo qui in questo video per fare una chiacchierata perché non parliamo da tanto e volevo dirvi da oggi cosa cambierà su questo canale come diciamo novità del 2023 ora prima di tutto voglio dirvi una cosa e condivido questa cosa con voi perché ormai sono su internet da 14 anni e quindi con le persone che mi seguono davvero o da tanto vorrei condividere questa cosa io negli ultimi anni o comunque nell'ultimo anno da quando mi sono trasferito eccetera non sto vivendo un bel momento sia fisicamente sia mentalmente per vari problemi e varie vicissitudini il problema è che io sono una persona molto testarda e quindi cerco sempre di andare avanti e per un periodo di questo di quest'anno ho anche pensato di dover smettere di fare questo lavoro dopo tutti questi anni semplicemente perché la mia testa non riceveva più tutta questa pressione per ripeto vari motivi e vari problemi nella mia vita ma diciamo che come dire è difficile molto difficile da 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 concretizzare questo pensiero vi posso dire che io ho una grande capacità che è una delle cose che mi caratterizza come persona ovvero io mi so riprendere molto facilmente mi auto sprono e mi auto impongo di essere una persona sempre felice sempre allegra perché io sono così sono Mirko Zain ma sono una persona diversa da quella che vedete voi in video eccetera io sono Mirko e nella mia vita personale io sono una persona completamente diversa da quella che si vede su internet o comunque sono puntiglioso e professionale come sono nella vita privata però diciamo che nella vita privata sono una persona molto più allegra molto più accesa ecco diciamo così il fatto che questo periodo per me sia stato pesante ha influito molto su questa mia voglia di essere felice tra virgolette e quindi diciamo che mi sono un po' abbattuto però la vita come al solito ti dà i limoni e tu fai una grandissima c***o di limonata e siccome a me la limonata piace diciamo che ho cercato di cambiare un po' le cose e per cambiare un po' le cose intendo essere più me stesso infatti succederà questo ragazzi perché da questo momento ovviamente intanto su questo canale vedrete sempre cose sul mondo apple questo ovviamente è la mia passione principale quindi non la cambierò assolutamente perché è la base di quello che faccio da sempre ma vi dirò una cosa ci saranno delle aggiunte tante aggiunte alcune le avrete già viste sicuramente altre arriveranno molto presto che ne so ad esempio ho già fatto video con una influencer ci saranno tanti ospiti ci saranno tante cose nuove e ovviamente faremo ancora diversi video con Federicas l'influencer che mi ha accompagnato nel video che abbiamo fatto qualche settimana fa e ci saranno tante altre cose ragazzi la cosa che voglio principalmente fare è questa ovvero indirizzare voi tramite un video tramite quello che faccio a capire anche come sono io perché è una cosa molto importante magari c'è chi interessa semplicemente vedere la news apple da me ok sapere quella novità c'è invece chi mi segue magari apprezza me come persona in generale io voglio dare di più a queste persone non voglio fare vedere solo il mirco così mirco professional io voglio darvi anche il mirco reale e quindi siccome il mondo di internet è vario ed è vasto ne avevamo già parlato nel 2022 io aggiungerò a questo canale altri contenuti o meglio sono indeciso se fare un secondo canale o pubblicarli in questo canale ovviamente scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate il vostro parere per me è importante ma sicuramente non parlerò più solo di apple parleremo comunque del mondo del web ma non parleremo solo di apple parleremo di social parleremo di spazio come avevo detto l'anno scorso di universo parleremo di scienza parleremo di tutto ciò che mi appassiona ma non ne parlerò come ne parlo adesso nei video classici quando parlo che ne so ecco le novità di ios 16 il nuovo iphone ecco la recensione no faremo un qualcosa di diverso vedrete il mirco reale il mirco felice il mirco che si c***a il mirco che fa battute il mirco vero quello che sono io personalmente perché onestamente essere me stesso per me è la cosa più bella e se posso esserlo anche nel mio lavoro che per me è la mia passione a pieno posso e voglio farlo ora prime cose che vedrete sicuramente un nuovo set perché qui alla mia sinistra ci sarà tutto un nuovo set che utilizzerò per fare questa nuova serie di video che avrà un suo nome sarà particolare sarà divertente sarà strana strana non l'avrete sicuramente mai vista da nessuna parte o una cosa del genere e parleremo dei disagi del mondo di internet tutto quello che capiterà fra le mani sceglieremo un argomento e poi lo tratteremo spero ovviamente che vi piaccia ma ci saranno ovviamente altre due novità che sono già uscite e quindi non ve le devo neanche dire cioè ve le ripeto per chi ancora non lo sa ma per chi è amante del mondo Apple è uscita prima di tutto la nuova versione di iAppZain ovvero l'applicazione più scaricata d'Italia per l'Apple News che ovviamente è fatta da me scritta da me ogni aggiornamento ogni notizia scritta singolarmente da me dove ovviamente si possono trovare news sul mondo Apple guide sfondi sconti di tutto adesso e tutto il mio pacchetto di app ovvero ai sfondi ai sconti ai assistenza eccetera è stato tutto inglobato all'interno di iAppZain che adesso ha tutto vi può dare assistenza vi fa trovare sfondi vabbè ve l'ho detto news eccetera quindi godetevi l'app ragazzi è gratis su App Store disponibile gratis sia per iPhone che per iPad mi raccomando veramente figa raga l'altra cosa che è già arrivata sono una nuova serie di mini video perché sia su TikTok sia su Instagram e sia qui su YouTube tramite gli Shorts di YouTube sto pubblicando una nuova serie di video siamo già al terzo episodio e si chiama trucchi e consigli per i vostri iPhone ed è una serie volta a risolvere i vostri problemi o a farvi scoprire novità che magari non conoscete infatti si chiama proprio trucchi e consigli o consigli e trucchi non ricordo per il vostro iPhone magari sono funzioni stupide per voi però ci sono tantissime persone che non sanno come utilizzare iPhone cioè quante volte vi sento dire Mirko però io ho comprato l'iPhone però non riesco ad utilizzare tutte le funzioni non c'è problema te lo insegno io con mini video una funzione per video e durerà per sempre ragazzi cioè questa serie sarà all'infinito non c'è una fine cioè arriveremo all'episodio numero mille anche perché dovrei fare più o meno due video uno barra due video a settimana quindi nel giro di un anno non lo so fatevi il conto quanti ne arriveranno e tra l'altro vedo già che vi piace perché sui vari social sta andando benissimo su Instagram ha fatto più di centomila views una il primo episodio se non sbaglio su TikTok 150 vabbè comunque è andato abbastanza bene quindi mi fa piacere e queste sono le due novità già proprio spoilerate secche anche perché ripeto sono uscite quindi comunque ultima cosa e vi abbandono anche perché dovrei andare a letto sono le 6.20 registro già un paio di minuti avrò fatto un botto di tagli però vabbè ora io quest'anno nel 2023 statistiche alla mano dovrei arrivare a centomila iscritti e io voglio dare a me stesso un buon proposito per questo 2023 e per questi futuri centomila iscritti pensate che mi avvicino così parlo seriamente con il Mirko del futuro dato che tanto sto video resta ricordati che tu non sei solo tutto perfettino e saputello ricordati che tu sei anche folle pazzo impulsivo hai tante passioni e quindi condividile anche con gli altri magari c'è qualche altro pazzo come te no? insomma benvenuti in questo 2023 più Zane che abbiate mai visto in questo E non te ne pentirai Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione Grazie a tutti